Quarta edizione della Tarantella del Carnevale, HTO sempre presente, ogni anno sempre diverso, sempre più emozionante, sempre più coinvolgente. Quest'anno abbiamo portato uno degli esempi di carnevali più arcaici, ma al tempo stesso più originali che abbiamo in Italia, le maschere del Carnevale di Alessandro del Carretto, che sono maschere straordinarie, appartengono a una tradizione che in qualche modo è antecedente a quella della Commedia dell'Arte, una tradizione tipica delle feste rituali primaverili, con queste maschere speciali che sono di legno, dipinte, che non usano il cuoio, per esempio, quella è la differenza rispetto alla Commedia dell'Arte fondamentalmente. Poi soprattutto sono maschere che hanno un grande valore rappresentativo nel segno anche di quello che è la dimensione del Carnevale, quindi anche un discorso di relazione col mondo dei segni zoomorfici, la rappresentazione degli animali e tutto questo. E poi chiaramente attorno a questo tutto il resto, i musicisti di Caggiano, il gruppo dei Summeuri, che sono appunto la rappresentazione del mare attraverso le corna degli animali, insomma tutto ciò nel gioco del vestire e spogliarsi come quello del Carnevale. Infatti io ho cercato di prendere nota ma poi a un certo punto mi sono un pochino persa perché erano davvero tanti stasera, quindi c'era Caggiano, appunto Alessandria del Carretto, Amatrice. Amatrice sì perché anche Amatrice c'è una grande tradizione di Carnevale legata al Saltarello. Io cerco sempre di mantenere l'asse attento su Amatrice per il legame d'affetto che ho con quella parte dell'appennino perché anche è un segno di rinnovamento, avere ragazzi di Amatrice che possono fare questo ci aiuta molto. Infatti questo mi ha molto colpito, vedere tre ragazzi giovanissimi che quindi magari non sono portati per un tipo di musica quello che oggi ascoltiamo, che poi alla fine non so se sia alla fine musica o più che rumore, e invece che preferiscono più le tradizioni popolari, quindi una musica antica, una cosa che non è comune. No, è quello che sta succedendo oggi in Italia, devo dire, nell'Italia dei paesi avviene proprio ciò che accanto anche a mondi e forme di quello che io chiamo la musica di plastica sono queste isole di resistenza, come è il caso anche di Alessandro del Carretto dove oggi abitano poco più di 500 persone, cioè un paese completamente abbandonato però sono i ragazzi che reggono la festa, sono i ragazzi che reggono le maschere, il rituale e sono proprio loro che possono in qualche modo continuare questa tradizione che è la radice antichissime. Sì, la radice antichissime è che come diceva lei prima, stiamo vivendo adesso un periodo particolare quindi la musica come antidoto, la musica come un virus che naturalmente farebbe bene a tutti. Sì, diciamo che noi lo combattiamo il virus, lo combattiamo attraverso la semplicità e l'energia dei canti e della musica, ecco, credo che sia il segno più forte che noi possiamo mettere in campo adesso. E a proposito di questo so che è uscito un CD. Sì, un CD è uscito con i canti dell'edizione della Chiara Stella dell'anno scorso che è da poco in circolazione e quindi insomma è una bellissima notizia perché appunto ferma quello che è stata quella grande edizione dell'anno scorso della Chiara Stella dove abbiamo raccontato l'aroma della strada attraverso i canti che venivano e vengono ancora fatti da quelli che sono oggi i musicisti di strada, quindi tanti musicisti che vengono da tante parti del mondo. Dove lo possiamo acquistare? Qui in auditorium e poi per corrispondenza. Benissimo, prossimi appuntamenti abbiamo sentito tante cose, ci sono tanti. Il 7 d'aprile c'è questo spettacolo nuovo fatto con l'opera dei pupi della gatta Cenerentola con l'orchestra, con il coro, con il teatro dei pupi appunto coordinato da Maurizio Stammati e dai pupari Aldo De Martino e Lettra Ercolano, Violetta scusa, Violetta Ercolano ma soprattutto abbiamo anche come ospite Yaya Forte che sarà la cantante dell'opera. Ottimo, allora naturalmente noi ci rivedremo sicuramente ad aprile. Grazie, grazie a tutti, arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci.